Con un'attenzione costante verso le esigenze della comunità, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano ha emanato un bando per aiutare il settore del volontariato, filantropia e beneficenza. L'obiettivo dell'iniziativa, per la quale sono stati stanziati 130.000 euro, è quello di contrastare la povertà con interventi diretti a supporto dei bisogni primari, delle famiglie e dei soggetti presenti nel territorio di competenza della Fondazione. Nello specifico questo è un bando che la Fondazione rinnova già da diversi anni e quest'anno è stato stanziato un importo importante perché c'è un incremento del 45% rispetto al contributo che era stato deliberato nello scorso anno. Quest'anno abbiamo messo a disposizione una somma maggiore proprio per il momento particolare che stiamo vivendo. Il bando è stato approvato nell'ultimo consiglio di amministrazione il 27 luglio scorso. I destinatari sono i soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro dotati di personalità giuridica, le imprese strumentali, le cooperative, le imprese sociali e gli altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro e anche privi di personalità giuridica che perseguono gli obiettivi del bando. Nel 2019 ne hanno beneficiato la Caritas, l'Associazione San Paterniano Ollus, Opera Padre Pio, il Banco Alimentare e la Banca del Gratuito per un progetto a favore di Casa Nazareth. La scadenza è il 18 settembre, quindi questo bando a cui soggetti pubblici o soggetti privati potranno partecipare dovranno formulare la richiesta entro il 18 settembre. Abbiamo fatto anche una riunione specifica con i sindaci del nostro territorio di riferimento perché anche loro possano, in base alle esigenze che hanno, partecipare a questa iniziativa della fondazione. Rimangono invece esclusi dal bando le società commerciali e le organizzazioni con finalità di lucro, le persone fisiche, i partiti o i movimenti politici, ma anche le organizzazioni sindacali o di categoria e le associazioni sportive. I progetti verranno valutati da una commissione composta anche di esperti esterni, scelti tra persone competenti nei settori di intervento. Il testo del bando e il modulo di richiesta sono disponibili sul sito internet della fondazione. Grazie. Grazie.